ciao ti invito personalmente a alla nostra ricerca sulla salute sulla scienza della salute sulla medicina dei miracoli sul segreto dell'autoguarigione e è una ricerca fantastica che stiamo facendo che abbiamo già iniziato venti anni fa che adesso riprendiamo e scopriamo tutti i giorni che ci incontriamo dei segreti immensi quello che non ci dicono quello che spesso non leggiamo in nessun libro e non vediamo in nessun video e che la salute o la malattia non è qualcosa che viene isolata può essere isolata dal contesto generale non ci dicono che la malattia è semplicemente una potenzialità un potere non vissuto allora mi direte eh sì adesso questo quest'altro come faccio cioè se riusciamo a capire che possiamo siamo in grado di autogestire di autoguerirci di regolare un po il tutto se riusciamo a capire che siamo noi così potenti che creiamo nel nostro corpo degli impulsi sulla colonna vertebrale sul mal di testa sugli organi che ci danno delle informazioni importantissime solo se riusciamo a fare questo passo riusciamo a vedere che al di là di quello che veramente generalmente viene visto come malattia c'è una potenzialità individuale ecco il grande mistero naturalmente un po e cosa faccio adesso che ho sempre questi disturbi questi problemi questi organi cosa faccio chiaro non siamo abituati all'autoguarigione al miracolo ma se ci rendiamo conto che come iniziata come qual è il processo nel quale si forma una malattia un dolore un disturbo chi l'ha creato fattori esterni mai fattori esterni possono influenzare ma generalmente sono decisioni che abbiamo preso noi fattori interni che non ce ne siamo accorti non ci danno informazioni lo tengono nascosto tengono questi segreti nascosti sono cose che abbiamo creato noi quindi se creiamo un aspetto negativo a naturalmente come nella corrente nell'elettricità c'è anche l'aspetto negativo positivo quindi guardiamo l'aspetto negativo e andiamo alla scoperta dell'aspetto positivo l'aspetto positivo è sempre individuale e ha sempre a che fare qualcosa con il vivere delle tue potenzialità quindi competenze individuali ecco in questo in questi corsi che facciamo adesso li facciamo online giù c'è il link siamo tutti scienziati perché nel momento in cui mi dici ho l'asma o questo tipo di disturbo oppure ho avuto questo tipo di disturbo guardiamo insieme il negativo e guardiamo il positivo ma magari guardiamo la tua capacità comunicativa o la tua capacità di espressione o la tua capacità di movimento che è stata e viene frenata da te stessa con un disturbo fisico quindi questi questo grande segreto mi sembra importante se andiamo insieme alla scoperta io non ho le chiavi codici eccetera il codice più importante che andiamo insieme se tu ti metti a disposizione dici bene io voglio chiarire il mio passato voglio andare alla scoperta di queste di questi piccoli segreti mi dai un meno un aspetto negativo io ti faccio vedere l'aspetto positivo e ti faccio vedere qual è la strada che puoi intraprendere per trovare tu stesso gli aspetti i lati positivi quindi il vivere del lato positivo l'accettare l'accettamento di questo tuo di questa tua potenzialità che non vivi è l'inizio del processo di guarigione nel modo più assoluto però facciamo queste esperienze lavoriamoci insieme adesso c'è questo corso online che potete fare qui all'ipsia sul luogo oppure tramite internet oppure naturalmente vengo in qualsiasi città d'europa o del mondo se organizzate un corso di 10 15 persone vi saluto ciao